Che vuoi? Grande Fratello 16, una frase shock ha scatenato il web, ecco i dettagli Una frase shock ha scatenato il web. . Nonostante la nuova edizione del Grande Fratello sia iniziata da pochi giorni, sta già facendo molto discutere a causa di alcuni concorrenti. Il modello napoletano Gennaro, ex di Lori del Santo, ha esordito con una forma verbale scorretta dal punto di vista grammaticale. . Linsegnante Ambra Lombardo, invece, è stata criticata perché dovrebbe tutelare lincarico che svolge per lo Stato. Nelle ultime ore i riflettori sono puntati su Valentina Vignali per aver pronunciato una frase che ha spiazzato il pubblico. . La cestista ha confessato che sarebbe disposta ad accettare un tumore, piuttosto che lennesimo tradimento. . A causa del tradimento persi 12 chili. . Valentina è molto attiva su Instagram. . Non a caso vanta di aver più di un milione di followers?. . I suoi sostenitori sono consapevoli del fatto che abbia un bel caratterino e ciò la resa protagonista di alcuni scontri social. . Quando salì a galla la verità su Sara Affifella, ex tronista di Uomini e Donne, la ragazza espresse il suo parere sulla farsa organizzata per ottenere visibilità. . . Per quanto riguarda Stefano Laudoni, suo ex fidanzato, ha sempre lanciato delle frecciatine che sono sempre state ignorate. . Prima di entrare nella casa ha confessato di essere stata tradita. . . Ha raccontato ai suoi compagni davventura di aver sofferto al punto tale da sprofondare nella depressione. . Non vorrebbe mai rivivere quel dolore e sarebbe disposta ad affrontare più una malattia terminale. . Le sue parole hanno innervosito i telespettatori, dal momento che non si muore per amore mentre il tumore quasi sempre ha la meglio. . . Ci sono due gay nella casa. . La frase shock ha scatenato il web, ma dopo poco lattenzione si è focalizzata su Christian Imparato che ha confessato la sua omosessualità. . Lopinionista Cristiano Malgioglio ha insinuato che anche un altro farà coming out. . . . . . . Grazie a tutti